Ed eccoci qui, buongiorno a tutti, è martedì, martedì 18 giugno, sono le 7.09, questa è Cristal Radio e iniziano ora le trasmissioni di Cristal Radio Milano con Good Morning Milano. Tutte le mattine siamo qui per raccontarvi un po' la città, raccontarvi quello che succede, leggere i giornali, collegarci con ospiti, avere ospiti qui. Oggi avremo sia collegamenti che ospiti qui in presenza, giornata ricca di racconti, di storie e di giornali che abbiamo qui davanti già pronti per essere letti. Vi ricordo che poi c'è un numero di Whatsapp che potete comporne, non si compone quando si salvi, tra l'altro dovete per forza salvarvelo, non si può mandare un Whatsapp a un numero che tu non hai salvato, quindi dovete salvarvi per forza. Il numero di Cristal Radio, della diretta di Cristal Radio che è 331-78-5355, questo è il nostro numero, quindi insomma è qui pronto per accettare tutto quello che volete mandare. Siamo qui pronti ad accogliervi a braccia aperte in questa mattinata che puoi iniziare insieme, puoi iniziare nella migliore delle maniere, anche condividendo appunto, non so, quello che avete in mente di fare, quello che farete durante la giornata, quello che avete fatto magari ieri sera, ieri cos'era, lunedì sera, lunedì sera, una di quelle serie che si sta a casa di solito, però chissà, magari uno dice, no ma c'è poca gente in giro, andiamo a provare quel ristorante lì, andiamo a provare, sempre se si è aperto, perché lunedì sera, molti ristoranti sono aperti, però insomma noi siamo qui pronti ad accogliervi e pronti soprattutto a darvi la sveglia come tutte le mattine con tanto, tanto rumore. Raffaella Carrà con rumore e oggi non potiamo che aprire con questa canzone perché oggi sarebbe stato appunto il compleanno di Raffaella Carrà, nata il 18 giugno del 1943 e quindi oggi è il suo compleanno, la sua festa, oggi ricordiamo appunto la grande Raffaella Carrà che ci ha lasciato nel 2021, il 5 luglio 2021, quindi in realtà fra qualche giorno in realtà c'è la commemorazione appunto della morte invece di Raffaella Carrà, invece oggi però vogliamo festeggiare il suo compleanno, quindi tanti tanti auguri a Raffaella Carrà e a tutto quello che ha creato per noi, tutto quello che è stato appunto il suo lascito per tante tante generazioni che insomma ancora ballano e ascoltano la musica della Raffa. Tanto rumore appunto canta nella canzone che abbiamo appena ascoltato, a volte si fa anche tanto rumore per nulla, non in questo caso che sto andando a leggervi, perché da Milano Today la storia assurda di una residente che non è potuta tornare a casa sua per via del concerto alla Maura dei Grimbi. Green Day di domenica sera. Voi direte, vabbè sì ovvio c'è casino, c'è tutto traffico e quindi è complicato, no no, non l'hanno lasciato passare. Così è tornato, stanno tornando a casa durante il concerto, le agenti non la fanno passare dicendogli neanche i residenti. Leggiamo da Milano Today l'incredibile fatto avvenuto durante il concerto di Green Day domenica sera. La storia è quella appunto di questa cittadina che tornando proprio domenica sera verso le 11 a casa e lei abita in via Ugo Betti, è tornata da un viaggio di lavoro, arriva alla rotonda sopraelevata del Bonola per intenderci e quando sta per imboccare la strada diciamo di casa, lei abita lì a due vie, quindi proprio una sinistra e una destra ed è arrivata a casa, gli agenti gli dicono no, non può passare. Nulla riesce a fare, ovviamente si sarà anche abbastanza inalberata la signora che ha chiamato prima di tutto il 112 che però dice noi non c'entriamo nulla con la viabilità, quindi non possiamo fare assolutamente niente. Ha chiamato poi il centralino dei vigili urbani, della polizia locale allo 020208 che hanno risposto, una risposta geniale, comunque complimenti davvero per la risposta, si rivolga ai colleghi presenti sul posto e sì che sono quelli che non la facevano passare. Tutto questo è venuto alla luce perché? Perché la signora poi, quella sera, è stata costretta a girare la macchina indietro e trovare un posto dove buttarla lì, dove posteggiarla e può andare a casa a piedi. Quindi questo è quello che è stata costretta la signora a fare. Ma soprattutto perché appunto il giorno dopo lei ha scritto una lettera alla polizia locale, ha scritto una mail alla polizia locale, in copia anche il consigliere comunale Enrico Fedrighini e appunto Milano Today ha potuto poi leggere questa segnalazione e raccontare questa assurda storia. Assurda storia perché davvero, cioè, la signora tu dice io non sono contraria ai concerti, contraria alle manifestazioni per niente, però trovo assurdo che poi vengono gestite in questa maniera. E quel problema, la viabilità è un problema. Queste maledette zone rosse sono troppo piccole in realtà, vi dico la verità, sono troppo piccole, cioè questa è la verità, perché due vie dalla location del concerto non bastano, bisogna allargarle molto di più, creare forse delle zone gialle, delle zone rosse, per cui i residenti sappiano che possono, tra parentesi, i residenti potrebbero entrare fino, se io abito davanti alla maura, non posso uscire di casa, non esiste, anzi, se io allargo le zone, davanti alla maura in Torino non dovrei avere nient'altro che gente a piedi che va al concerto, quindi io in macchina, tranquillamente, lentamente, da tirare sotto nessuno, vado in giro. Insomma, la viabilità delle serate dei concerti è un problema, e sappiamo anche però che, insomma, la viabilità in generale è un grossissimo problema, soprattutto se c'è il traffico. E come cose con Malavita, qui alle 7 e 22 minuti su Crystal Radio, Good Morning Milano, grazie ai vostri Whatsapp che stanno arrivando, grazie ad Alberto che ci scrive, un saluto a tutti i cristallini, a Fabio e alla redazione, questa mattina sveglia prestissimo e già all'ascolto di Good Morning Milano, siamo qui apposta, siamo qui apposta, ci mettono qui apposta per potervi dare la sveglia e darvi un po' di carica all'inizio, questa mattina abbiamo già iniziato con un grande, un grande energia con la carrappa, poi adesso i comacose, anche la prossima canzone, vi raccomando, la cantiamo tutti insieme, ve lo dico già, però insomma, prima ancora un po' di notizie dai giornali. Repubblica Milano, Cadorna, la regione stanzia 150 milioni, è sempre bellissimo quando leggiamo i numeri scritti sui giornali, no? 150 milioni, milioni, mille, milioni, ricordate, ecco, l'ingegnere cane, ecco, quella roba lì, no? 150 milioni per coprire i binari e recuperare un nuovo spicchio di città. L'articolo poi va avanti raccontando come il progetto Fili, Cadorna, fabbrica dell'ossigeno, prevede di coprire i binari dalla stazione di Cadorna e il conseguente allargamento del parco Sempione, recuperando la fossa dei serpenti con costruzione di nuovi edifici più la creazione di un sistema che migliori l'aria, perché l'idea è quella di coprire, perché però la maggior parte dei binari delle ferrovie nord che da Cadorna vanno verso nord appunto e sopra lì costruirci delle cose. Tutto l'articolo racconta di come tutto l'investimento nel complesso per il progetto Fili appunto che servirà per coprire tutti questi binari che sono 800 milioni di euro in generale, la regione nelle stanze 150. Il progetto si inserisce nel più ampio ambito di rigenerazione urbana del nord ovest della Lombardia, che prevede la riqualificazione dei principali nodi di trasporto ferroviario, Cadorna, Saronno, Bustarstizio e Malpensa. Un disegno che si accompagna a interventi di ricucitura urbana, questa idea che, ed è così effettivamente se provate le mappe, le ferrovie tagliano spesso e volentieri le città in spicchi oppure in due parti, così. Fili appunto, si chiama così questo progetto, l'obiettivo generale appunto dell'accordo di programma è la realizzazione di un progetto di rigenerazione urbana che si estende dal piazzale antistante alla stazione Cadorna sino a Domodossola, quindi verrà coperto tutta quella parte lì delle ferrovie. copertura dei binari, riqualificazione della stazione, progetto verde, tutto super, ci sarà anche lo 02 Lab, che sarà delle tecnologie sperimentali tese a concorrere al miglioramento della qualità dell'aria, pensate, ok? Circa 33.000 metri quadrati che aiuteranno appunto l'abbattimento degli inquinanti, realizzazione di alberi, non so quante migliaia di alberi, in tutto ci saranno 41.000 ettari di alberi in 24 comuni su tutto il progetto, ok? Viene raccontato così, se non che alla fine leggiamo anche, prevista anche la realizzazione di nuovi edifici a uso pubblico e privato, quindi finalizzato a garantire la sostenibilità economica della proposta, cioè tutto il resto, tutta la melonia che ci avete raccontato è bellissimo, ma sicuramente ci saranno nuovi palazzi, nuovo cemento, nuova cementificazione, come al solito, perché se no non stanno in piedi i progetti. Ma allora me lo scrivete subito, ma non ce l'ho con i giornalisti di Repubblica, ce l'ho con questa presentazione dei progetti sempre che fanno vedere questi rendering tipo a Mazzonia, ma poi vedremo nel concreto che è bellissima, ci sarà una pista ciclabile lunga 54 km, pensate, che dovrebbe arrivare fino a Malpensa, quindi bellissimo, tutto stupendo, però di base state facendo fare a dei privati dei palazzi, punto, sempre lì si finisce, sempre lì si finisce. Quindi è inutile che ci puliamo sempre la bocca con alberi, parchi, biciclette, ciclabili, alla fine sempre lì si finisce. E alle 7.33 minuti torniamo in diretta qui su Crystal Radio con Good Morning Milano, abbiamo parlato poco fa, è un caso in realtà, poco fa abbiamo parlato di Stazione Cadorna, di questo progetto con cui si vorrebbe ricoprire i binari per fare un progettone pazzesco, ma la verità sappiamo che su Trenord sono altre, non sono io a dirlo, ma insomma sono tutti i giorni i pendolari, tutti i giorni coloro che prendono ogni maledetto giorno, verrebbe da dire, quelle linee, così dicono loro, ma soprattutto lo è anche una carissima collega bravissima che anzi questa volta ha detto ragazzi io non so cosa fare. Sto parlando di Rosi Battaglia, buongiorno Rosi. Buongiorno, grazie davvero a voi, ciao. Ciao Rosi, benvenuta, appunto giornalista, documentarista, anzi è un giornalista anche di inchiesta, tu hai fatto tante inchieste nella tua vita, no? Sì, esatto, infatti il mio sfogo di ieri, esatto, era proprio il fatto che dico, ci rinuncio. Raccontiamo un po' cosa è successo, ieri hai fatto un post di umana... Sì, esatto, era un po' veramente... è stato veramente uno sfogo umano, devo dire, perché sono una, devo confessare, che sono una di quelle che a un certo punto non ce l'ha fatta e di fatto se n'è andata da Lombardia, non da molto e però ovviamente torno, vado e torno e ogni volta che vado e torno trovo non solo gli stessi problemi ma li trovo anche ingigantiti soprattutto in questa fase. Quella dei trasporti, lo sappiamo, è un problema atavico che in questi anni non ha avuto un miglioramento. Devo dire, sempre, ecco anche come giornalista insomma di inchiesta ma nello stesso tempo anche in maniera equilibrata, non è un problema solo di Milano, chiaramente, perché come scrivevo in questo mio post sfogo, in queste settimane sono stato appunto girato per alcune delle stazioni più importanti d'Italia, Venezia, di snodo, quindi Venezia, Roma, eccetera, Bologna e i problemi sono comuni. Però ecco, quello che ho notato, come dire, soprattutto nel traffico verso Milano, quindi come dicevi tu, quello di noi, i benedetti pendolari, è che la situazione è ovviamente in peggioramento. E ieri soprattutto, la cosa interessante è stata che erano cinque minuti di ritardo ieri a un certo punto, i cinque minuti sono niente in confronto, giusto? Esatto, sono niente, è stata questa goccia ma intanto quei cinque minuti che poi sono diventati dieci e che erano comunque negati dall'app di Trinitalia, ma non è un caso che noi pendolari di solito facciamo le foto per attestare, perché regolarmente cosa succede? Che quando si arriva in centrale si perdono le coincidenze, si perdono assolutamente le coincidenze e una cosa che ho notato è che obiettivamente chi arriva da Malpensa, dalla linea di Varese, eccetera, alla fine è veramente un po' come ho scritto, un figlio di un dio minore. Tu dici quell'essere è considerato un nulla. Sì, sì, un nulla, perché obiettivamente pur andando a cercare di recuperare un biglietto, capire come poter fare, il problema vero mi è stato detto tranquillamente, guardi, lei è sulla linea Trenord, arrivava da Trenord e quindi, come dire, non contate nulla, cioè che arrivate prima, che arrivate dopo, peggio per voi, cioè lei per arrivare in centrale in orario, io so che dovevo partire, mi sarei dovuta alzare alle quattro e mezza, mi sono alzata solamente alle cinque e non ce l'ho fatta, prendere un treno che partiva da centrale alle sei quarantacinque, tutto questo per fare trenta chilometri. Perché questo è il tema, questo è il tema dello snodo, non sono io a rilevarlo, insomma ci sono anche altre app, visto che quella di Trenitalia non lo rileva e non ho controllato, sono confesso quella di Trenord, perché c'è anche questa cosa che ogni utenza ha la sua app, quindi anche qua, insomma questo, e il problema vero è che però, come dire, questi ritardi li viviamo noi, cioè vengono assorbiti sulla nostra vita e quello che poi ovviamente pensavo è che chi deve timbrare un cartellino, prendere una coincidenza e non se lo può permettere, o cambia mezzo, il discorso è questo. O rischi di dover cambiare mestiere, cioè quello è il problema, o devi cambiare casa. O che non puoi arrivare appunto a lavoro o una trasferta importante, come dire, sempre in ritardo o rischiare, nel caso mio di ieri mattina comunque dovevo affrontare un viaggio di 4-5 ore. Poi alla fine, ecco, questa è la cosa un po' amara, è che quando mi è stato chiesto poi di andare a mendicare, se ci fosse un posto su un Frecciarossa, a vedere, a proprio vedere se il capotreno le trovo un posto, ecco lì devo dire è stato abbastanza umiliante. Ma come provi a vedere se il capotreno c'ha un posto, nel senso, ma cos'è, non è che vieni a casa e mi dico guarda, aspetta, guarda se c'ho in frigorifero qualcosa ti faccio un piatto di pasta. E ti dirò di più che però con Italo questa cosa, devo dire ecco, anche qua poi vabbè si aprono tanti discorsi, ecco, c'è questa cosa, ovviamente ci sono le diverse gestioni che si notano ancora tutte, quindi tre nord, tre in Italia, due mondi che non si sono poi integrati, a parte appunto come dicevi tu le varie battute e le varie, come dire, ritorsioni elettorali, perché anch'io mi ricordo certi cartelloni durante le campagne elettorali regionali, in cui appunto si diceva che, come dire, l'inaffidibilità di tre nord era colpa di tre in Italia, io non so più a questo punto chi è colpa, chi si è preso l'aumento, eccetera, fatto sta che il disservizio è costante, è una cosa, abbastanza triste che comunque è anche rispetto a chi viaggia su quella linea, in parte sono i turisti, quindi anche qua persone che a questo punto non vengono considerate e anche i pendolari, i quali come sappiamo, se non si possono permettere di arrivare in ritardo o di prendere un biglietto business o che cosa, passano alla macchina e questa è la seconda parte del problema secondo me, perché la Milano Laghi, lo sappiamo, è una delle autostrade più intasate d'Italia, adesso io non so a quante corsie siamo arrivati, se a sei, sette, insomma, però ecco... La seallaga sempre di più quando basterebbe far arrivare i treni in orario, forse, ecco, non so come dire... Ecco, poi ecco, purtroppo la mia mente da data journalist, eccetera, che ha studiato anche poi i dati di impatto di inquinamento ambientale del nostro bellissimo territorio, è quello che in ogni caso si è costretto ad andare in macchina. Rosy, tu ieri hai gettato la spugna dicendo che un altro collega forse che passasse dal tuo bacheco avrebbe potuto prendere ispirazione e fare una inchiesta, non è che stamattina ci sei ripensato e inizierà una inchiesta... No, è che sono impegnata... Sono impegnata, grazie, no, sono impegnata, sono in chiesta più grande, come sai, che è quella che riguarda... Una parte è uscita, insomma, che riguarda comunque il peso dell'inquinamento industriale in Europa e soprattutto a Taranto e quindi con problemi tossi, perché ancora... Ma che non sono tanto diversi, però, attenzione, da quello che viviamo, che abbiamo vissuto è Lombardia... Stavi parlando di Taranto Chiama, giusto, tu stavi parlando adesso di... Esattamente, documentario in chiesta alla quale sto lavorando, ho avuto un sacco di necessitudini per quello che sto volando basso, però ci sto lavorando, esatto, perché veramente è stato tutto molto complicato, però ecco di fatto poi i problemi, è una storia esemplare che io spero serva ai ragazzi e alle ragazze delle nuove generazioni, perché non è solamente un film di denuncia, ma anche un film proiettato sul futuro e torniamo un po' anche alla telefonata di stamattina, le soluzioni ci possono essere per gli uomini e le donne di buona volontà, soprattutto però se le consideriamo, ecco, se non veniamo considerati delle merci, dei numeri che pagano... Ho avuto paura quando hai detto considerati delle me, ho detto no, mi raccomando, il lessico invece no, ok, merci, ok, scusami, mi sono spaventato, mi sono spaventato, effettivamente però l'idea è quella, insomma, si viene considerati veramente, come dici tu, il nulla, ed è quella a me è piaciuto del tuo post, non parlare di tanto dei ritardi, delle infrastrutture o quelle cose, ma del fatto di dire almeno un po' di considerazione per noi che dobbiamo subire tutto questo. No, non siamo più, nel senso, quindi sei lasciato da solo in balia, io immagino un ragazzo, una ragazza, cioè io comunque sono una donna che ha superato il mezzo secolo di vita, quindi sono una pendolare navigata, viaggio tantissimo anche per scelta sui mezzi pubblici e ritrovo la verità, dal post è traspare, ieri mattina veramente mi sono sentita male, frustrata, è stata una brutta sensazione, ecco, uscendo dalla Lombardia non è stata una bella sensazione, questa cosa mi ha molto intrestito. Va bene, insomma, intanto, grazie a voi per aver raccolto questo sfogo, boh, chi ci ascolti faccia qualcosa, perché obiettivamente, insomma... E ci hanno provato, ci hanno provato a farlo, però non siamo presi una diffida e una causa adesso aperta con i pendolari, i Trenord li ha denunciati. Eh sì, appunto, perché questa è la situazione e però... Devo stare un attimo attenti anche su quello, va bene. E assolutamente sì, però è anche giusto... No, no, giustissimo, giustissimo. Non stare zitti. No, 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 per nulla, per nulla, infatti siamo sempre più contenti di averti qui con noi Rosi, grazie mille, buon viaggio. Grazie a voi, buona giornata. Mi auguro meglio di quello di ieri a questo punto, va bene. Esatto. Buona giornata ancora, grazie mille Rosi Battaglia, grazie mille. Grazie davvero, buona giornata, ciao, ciao, ciao. Gianna Nannini, filo spinato, qui su Cristiano Radio, Good Morning Milano, abbiamo appena sentito la storia di Rosi Battaglia, andate a cercare su Instagram Rosi Battaglia e leggete il suo post, perché è davvero interessante, è stato illuminante, devo dire, ieri mattina quando ho letto questo post, che in un suo passaggio dice, ho visto ben di peggio in queste settimane, sia qui a Milano, Centrale, dove ormai c'è una rassegnazione completa, ma anche a Bologna, Roma, Venezia, parla di ritardo, dice, non sono i 5 minuti di ritardo, i 6, 7, 10, 100 minuti di ritardo, non è quello alla fine, ma quell'essere considerati un nulla, arrivando in perenne ritardo da Malpensa e dalla mena provincia di Varese a Milano, come figli di un Dio minore, lascia sempre un amaro nel cuore. È da lì che appunto ho iniziato a voler poi, ci siamo sentiti ieri io e Rosi e lo volevo fortemente questa mattina appunto perché non è la sterile polemica sul ritardo o sulla gestione o sul fatto che quelli sono più bravi di quegli altri, 3 Nord fa più schifo di 3 Italia, no, non è vero 3 Italia fa più schifo di Italo, no, Italo fa più schifo di quell'altro, non era quello il tema, ma il tema del fatto che comunque parliamo di gente, di persone, di cittadini, di esseri umani che semplicemente vorrebbero vivere la loro vita tranquilla, spostarsi da dove abitano per andare al lavoro, dal lavoro per andare a tornare a casa, oppure anche semplicemente per andare a farsi un giro perché sono turisti, vogliono venire a vedere la nostra bella regione, vogliono venire a vedere la nostra bella città, insomma. Ho voluto avere proprio Rosy qui al telefono con noi perché quando l'umanità per fortuna esce anche dai social, perché poi sappiamo che posto sono i social, cioè questo post sarebbe potuto benissimo essere l'ennesimo post di parolacci, insulti o imprecazioni al mondo, al sistema, a loro, no, come dire, come si dice, è sempre colpa loro del sistema e invece è stato una bella, un bel post umano. Nemo, The Code, dall'Eurovision 2024, il vincitore della Svizzera che ha fatto il videoclip su un treno, quindi aveva anche un collegamento con la notizia che avevamo appena dato. Invece vi ricordate via Aselli, ok, quelli che hanno la via in cui delle persone in realtà, questo caso non è anche attivistico, no, dei cittadini avevano riqualificato un pezzo di strada, bene, gli avevano dato 1.000 euro di multa. Ciao, siamo un attivista di Città delle Persone e vogliamo ringraziare le 315 persone che hanno partecipato alla raccolta fondi organizzata per aiutarci a pagare la multa di 1.000 euro ricevuta per aver rigenerato e riqualificato questo parterre. Abbiamo raccolto in totale 4.658 euro, di questi 3.000 verranno messi da parte per pagare le spese legali per il ricorso ed eventualmente le multe. La restante parte verrà utilizzata per comprare il materiale per rigenerare altre aree verdi come questa. Chi fosse interessato ad adottare un'aria verde all'interno del proprio quartiere, sarà invitato a mettersi in contatto con noi entro fine giugno attraverso un form che verrà messo a disposizione. Sarà così possibile ottenere informazioni sulla procedura comunale, ricevere materiale di partenza per riqualificare e rigenerare uno spazio pubblico e conoscere le linee guida per un'adozione a basso costo. In seguito verrà anche organizzato un incontro con la squadra di effetto urbano e alcuni esperti del verde per darvi ulteriori informazioni e supporto. Grazie ancora a tutti e a tutti e ancora tanti complimenti agli amici di Via Aselli che hanno potuto effettivamente fare questa bellissima, bellissima esperienza. Andiamo avanti adesso con un po' di musica, dopodiché piccola pausa, giornale radio e poi torniamo qui con i nostri ospiti perché andiamo avanti fino alle 9. Questo è Good Morning Milano, questa è Crystal Radio. E questo era Michael Jackson con Billie Jean alle 8.08, il Crystal History delle 8 qui su Good Morning Milano e siamo qui con la nostra ospite di oggi, l'assessora Gaia Romani, assessora ai servizi civici. Buongiorno assessora. Buongiorno Fabio, grazie per l'invito. È sempre bello quando il comune di Milano entra nel nostro studio. Siamo contenti perché dopo il voto si fa l'analisi del voto e tutto, adesso vogliamo analizzare un po', analizziamo l'analisi del voto, cioè andiamo a capire più che altro cosa è successo, ma non tanto chi ha vinto e chi ha perso, ma anche perché qui io continuo a dire che non è che ha vinto in pochi, ha un po' perso tutti, si sa. Come ad esempio anche la partecipazione, non solo, perché quando si parla di partecipazione non è solo chi va a votare, ma anche chi magari si mette al servizio per fare le votazioni, per fare le elezioni. Parliamo degli scrutinatori, parliamo dei presidenti di seggio, quella cosa che gestisce il tuo di Castero, stavo per dire. Il tuo assessorato. Il mio assessorato, sì, si occupa dell'elettorale. Guarda, è una di quelle attività di, come dire, backstage, che per un'assessora è veramente affascinante seguire e vedere. Ormai, tra l'altro, io ci considero un po' Highlander dell'elettorale perché in pochissimi, in quasi tre anni, neanche tre anni, abbiamo già avuto quattro appuntamenti elettorali, quindi oltre alle amministrative del 2021. Sono tanti. Sono tanti perché di solito chi ricopre questo ruolo, o da, diciamo, escluse le elezioni con cui entra e escluse le elezioni con cui finisce, magari in cinque anni fa uno o due appuntamenti elettorali. Io invece ne ho già fatti quattro in neanche tre anni. Quindi è bello perché ormai ci sono entrata, diciamo, dentro e mi appassiona molto. Cioè, devo dire, è molto affascinante come meccanismo. Ecco, ne parliamo perché l'abbiamo letto su tutti i giornali, tu hai fatto anche degli appelli proprio per questo, perché comunque quest'anno c'è stato un problema sulla... risolto tutto, diciamo già subito, risolto tutto egregiamente, ma sulla composizione dei seggi. Cioè, è stato difficile trovare chi andasse a fare, appunto, scrutinatori o presidenti. Sì, abbiamo avuto. Intanto, diciamo che per raccontare anche alle persone che ci stanno ascoltando come funziona, tutti i comuni hanno degli elenchi che cercano di tenere aggiornati di tutte le persone che nel tempo si rendono disponibili a fare gli scrutatori o i presidenti di seggio. Noi in particolare abbiamo degli elenchi da un buon numero di persone, circa 20.000 persone. Ok, su quanti seggi sono a Milano? 5.120 persone abbiamo bisogno. Le sezioni sono 1.247, quelle ordinarie, e poi abbiamo 66 seggi speciali, quindi ospedali. Esatto. E quindi 5.000, quindi una lista di 20.000 persone, più o meno. 20.000 persone. E ne avete bisogno 5.000 qualcosa. Esatto, e tu proprio ne devi chiamare 5.120, quindi inizialmente tu devi convocare quelli di cui hai bisogno. Abbiamo avuto 2.500 scrutatori e 600 presidenti che hanno, si dice, rinunciato all'incarico, che sono tantissimi. Non ne avevamo mai avuti così tanti di rinunce, anche perché devi pensare che è un qualcosa per cui tu puoi rinunciare in teoria per grave impedimento, quindi dovrebbero esserci delle ragioni valide. sicuramente, cos'era, 4 appuntamenti in 3 anni forse non aiuta, ecco mi viene a dire. Se non aiuta te, pensa, immagino la signora che si è registrata magari 20 anni, 30 anni fa, che dice, vabbè, tanto lo faccio una volta ogni 4-5 anni, e invece poi… Esatto, e poi sono sempre state convocate anche su due giorni. Questa cosa si dice che di solito, diciamo, venga decisa in un'ottica di maggior affluenza, dare alle persone più finestre di tempo, esatto. Però in realtà, come dire, secondo me, da quello che noi abbiamo testimoniato a Milano, non crea questa grande partecipazione in più, ma al contrario diventa molto più complesso da gestire e da sostenere come sforzo per le persone che sono ai seggi, perché consideriamo che sono circa 8 ore sabato e un minimo di 14 ore fino a un massimo di 20 ore di domenica, quindi significa 28 ore di lavoro pagati, tra l'altro, e questo è un altro tema, meno di 4 euro l'ora. Quindi è bellissimo lo spirito civico, ma, come dire, sicuramente, avere avuto tante lezioni, sempre più su più giorni e con compensi veramente molto bassi, che non vengono mai aggiornati, tutto questo fa sì che poi per noi diventi un po' complicato. In più, questo dato credo tu non lo abbia, ma vorrei capire anche l'età media di chi è registrato lì, che è sicuramente un'età molto avanzata, quindi insomma anche quello c'è da dire, è complicato anche quello come tema, nel senso che sicuramente bisogna fare qualcosa per cui magari i più giovani si possono avvicinare a questa esperienza. Assolutamente, guarda, noi in realtà abbiamo da qualche tempo iniziato a mandare una lettera a casa dei neodiciotenni, in cui li invitiamo anche a fare gli scrutatori, però sai, un conto è ricevere una lettera, un altro magari è vedere una persona in presenza, anche mezz'ora in classe, che ti racconta l'attività e ti invoglia, quindi dovremo provare un contatto più diretto. Assessora Romani on tour, ci aspettiamo da settembre nelle scuole. Ma guarda, abbiamo già iniziato a fare delle attività con il Parlamento europeo, con l'Ufficio del Parlamento europeo sul voto. Sì, avete fatto degli incontri, un mesetto prima dell'elezione avete venuto a girare la città, mi ricordo. Esatto, è stato molto bello, è stato molto formativo, però ci siamo resi conto, noi facciamo sempre, come dire, alla fine l'analisi di cosa è andato bene, cosa è andato male. Ecco, è stata una bella esperienza, ma deve essere continuativa, quindi ci siamo presi questo impegno e lo vogliamo portare avanti, per cui dobbiamo fare un po', diciamo, un pacchetto di azioni civiche e sicuramente andare più ripetutamente nelle scuole, mettendo insieme chi già lo fa, quindi per esempio cito Fondazione Megalizzi, che sono tutte in realtà a Milano molto attenti a questo tema, quindi che già vanno nelle scuole, nelle 35 ore dedicate all'educazione civica, quindi cercare di sistematizzare un po' di più questa presenza e questo ingaggio. Ha detto l'educazione civica, però è quella cosa che adesso diciamo, ci vorrebbe l'educazione civica a scuola, c'è l'educazione civica a scuola appunto, bisogna solo farla bene, nel senso di riuscire a strutturarla di più magari e farla anche magari legata poi appunto a temi importanti come quello del voto, in questo caso e tutto insomma. Andiamo avanti a parlare ancora, ma fra poco, perché prima ci fermiamo con una piccola canzone, ma non prima di fare gli auguri alla nipote di Alberto, che ci scrive in questo momento al 3317853555, dicendo in bocca al lupo a mia nipote Alessia per gli esami di terza media, è vero, perché ci sono gli esami di terza media in questi giorni, quindi tante in bocca al lupo appunto ad Alessia e a tutti quelli che stanno studiando in questo momento, anche in vista perché domani, signori, domani inizia la maturità invece e domani mattina siamo lì, ti ricordi la maturità, sessora? Bruttissimo ricordo, cioè non vorrei dare queste vibes negative però. No, non voglio saperlo, non voglio saperlo, domani mattina siamo davanti a Carlo Porto in diretta appunto per sentire i ragazzi e le ragazze che andranno a fare la prima prova della maturità 2024. Intanto un po' di musica, poi torniamo qui ancora con l'assessora Gaia Romani. Scatman John con Scatman, 1995, sessora, come ballava? Nel 95 non era anche nata? No, nel 96, guarda, me la sono persa per un anno, per poco, ma grazie a te la recupero. Ah, vedi, bene, bene, sono contento. Ma come vi siete, che risposte vi siete dati appunto al fatto di non aver trovato, cioè poi li avete trovati in extremes, però c'è tutta questa fatica nel trovare le persone per fare i seggi, qual è stata secondo voi, quali sono le motivazioni? Non credo che ce ne sia solo una. Sì, io credo che siano più di una, allora partiamo dalla più scomoda, diciamo, da quella più pesante che sicuramente c'è, che è questo grande tema della partecipazione e in qualche modo del calo del senso civico, che come dire, è più scomoda perché è anche un po' più complessa da affrontare, è un tema talmente grande, senza contorni, che sai, noi facciamo tante iniziative per provare a fare la nostra parte su questo, ma è sicuramente un qualcosa che riguarda tutte le democrazie e che quindi a livello comunale deve essere affrontato, ma allo stesso tempo sembra che un po' ci sfugga, no? E poi dall'altro lato il fatto che appunto siano convocate su più giorni le elezioni, questo secondo me non aiuta perché anche invece chi magari vorrebbe dare una mano, sai, giugno è comunque un periodo in cui siamo forse tutti un pochino affaticati dall'anno, quindi dare disponibilità due giorni interi. Saggezza popolare, la chiamo così, più di un anziano del quartiere mi ha detto, gualla che bisogna andare a votare d'inverno, mi dicevano così, la risposta è quella, mi hanno detto, perché d'estate si arriva stanchi, poi c'è il bel tempo, la gente ovviamente se ne va in giro, quindi non ha voglia di star lì, invece d'inverno alla fine lo fai quasi volentieri, così mi hanno detto, ma più di uno, mi hanno detto così. No, io mi fido, io mi fido molto del parere dei nostri milanesi più saggi, più anziani, quindi saggezza popolare sicuramente, quindi c'è un po' questo tema, quindi persone che magari vanno via o che in generale si sentono meno attive verso questa parte dell'anno, il compenso secondo me gioca un ruolo, adesso noi abbiamo, vediamo se funzionerà tutto bene, ovviamente speriamo di sì, perché per la prima volta daremo il compenso tramite accredito del bonifico bancario direttamente sul conto corrente, che è una cosa che ci chiedevano da tanto tempo. Ce lo chiedevamo anche noi l'altra sera, perché abbiamo una nostra amica che fa la presidente, ci chiedevamo come sarebbe funzionato questa cosa, ecco. Sì, prima dovevi andare a ritirarlo di persona, l'assegno, esatto, e diciamo dopo diversi mesi, invece così entro un mese, quindi entro la metà di luglio, dovresti avere il bonifico se hai fatto la richiesta ovviamente per averlo, perché poi non tutti hanno il conto corrente, quindi rimane anche valida l'altra strada. E magari anche questa cosa qui aiuterà, perché se si sparge un po' la voce che comunque i tuoi 138, se sei presidente o 110 euro, se sei scrutatore, se sai che il mese dopo ti verranno accreditati, ecco magari, come dire, un po' più... Sì, non devi aspettare sei mesi, non devi andarle a prendere fisicamente, quindi magari così. Ecco, quindi tutto questo, due giorni secondo me io farei one shot, cioè io farei un giorno solo, in cui si crea quella bella atmosfera, quello giorno del voto... Anche per lo scrutinatore, poi appunto magari diventa due giorni, perché poi appunto voti un giorno intero, poi inizi la sera, oppure la mattina dopo, quindi insomma, alla fine comunque sono due giorni in cui sei lì. Questa volta sono rimasti in ballo praticamente dal sabato mattina, perché i seggi si sono costituiti il sabato mattina, poi apri alle tre del sabato, tutto il sabato sera, poi tutta la domenica a votare, e poi alle 11 inizio di scrutinio, che magari finisce alle 4 del mattino. Sì, e questo secondo me è stato un altro elemento, perché invece alle regionali, lì abbiamo fatto tutto un giorno, tutta la domenica, e mezza giornata il lunedì, e quindi come dire tu sapevi già che avresti avuto le attività di scrutinio dalle 15 in avanti, invece in questo caso loro hanno fatto il sabato la mezza giornata, e tutta la giornata la domenica, e lo scrutinio la notte, quindi è molto più pesante. Però non lo so, guarda, allora noi cerchiamo di inventarcene un po' di ogni, quindi tramite le università scriviamo agli studenti, tramite i neo-diciotenni, mandiamo a loro la lettera di auguri, regaliamo una copia della Costituzione e li invitiamo a essere parte di questo grande momento di democrazia. Quindi insomma, un po' di idee ce le siamo fatte venire e ci stiamo attivando. Se qualche ascoltatore o ascoltatrice ha dei suggerimenti, noi siamo felici. 3-3-1-7-8-5-3-5-5-5, potete scriverci se avete qualche suggerimento. Ha parlato di l'università, beh, è andata abbastanza bene, mi sembra il voto fuori sede. Sì, sono contenta, guarda, allora noi siamo stati, allora in generale in Italia... In generale è contenta, ma è andata bene per il suo partito anche nel voto fuori sede. Esatto. Ecco, sono per quello, diciamoci la verità. E non solo nel voto fuori sede, dai, rispetto alle aspettative possiamo dire che... Sì, ora non mi tocchi quel tasto che posso sentire il sindaco che esulta perché il PD è il primo partito a Milano dove non vanno a votare nessuno, mi ha fatto un po' arrabbiare, devo dire la verità. Ti ha fatto arrabbiare? Sì, sì. Ma cosa che ti ha fatto arrabbiare? Esultare per il fatto che dici che bello, siamo il primo partito a Milano, quando però in realtà più della metà della città non è andata a votare. Sì, quindi tu dici avresti voluto più un'esaltazione, diciamo, da senso civico-istituzionale e prioritizzare quel tema lì. Sì, ma è vero anche che noi, come dire, pensiamo anche che il centrodestra abbia patito un po' questo fenomeno, quindi sicuramente c'è anche un collegamento, infatti Meloni dice noi abbiamo perso 600 mila voti ma i nostri sono andati a votare di meno, ecco c'è un po' questa cosa che si dice. Però, guarda, noi siamo contenti perché, allora, il voto fuori sede secondo me in generale non ha funzionato benissimo. Beh, è una prima volta, ma ci sta. Esatto, però, esatto, sono contenta che tu anche abbia questo spirito perché insomma è lo spirito giusto. Sì, non sono di quelli che dicono. Ci sono altre cose che non funzionano e sono non la prima volta che vanno invece dette. In questo caso, prima volta, ci sta. Sono molto d'accordo. In più, noi abbiamo fatto questo tentativo di far votare gli studenti nelle università, che sembra una cosa scontata, ma era la prima volta che a Milano, nella storia della nostra città, che il voto veniva organizzato nelle università. Ed era molto bello perché c'erano gli studenti che facevano gli scrutatori e i presidenti, gli studenti che votavano, quindi erano questi seggi, diciamo, molto giovani. Steggi stile appartamento spagnolo, per esempio. Esatto, un po' quella situazione lì. Quello spirito lì, diciamo, quello spirito lì. Ed è stato molto bello. Tra l'altro, Milano siamo contenti perché abbiamo avuto 5.000 fuorisede, che comunque se ci pensi, anche qui su 23.000 a livello italiano, averne 5.000 solo da noi, quindi poco meno di un quarto. Cioè, iscritti fuorisede per le relazioni in tutta Italia hanno 23.000? 23.000. Il 25% a Milano. Il 25% a Milano, quindi possiamo dire che la collaborazione in questi anni, rispetto a questo appuntamento con le università, è stata sicuramente utile. Quindi noi abbiamo preparato un facsimile, una sorta di vademecum all'università perché scrivessero agli studenti con anticipo. Bene, chiarissimo. Allora festeggiamo appunto gli studenti che magari un po' di senso civico ce l'hanno più di noi, anche magari. Il 25% è una bella percentuale, però. Il 25% degli studenti fuorisede in Italia ha votato a Milano. Insomma, complimenti. Sono anche tanti fuorisede a Milano, ovviamente. So che le percentuali sono sempre da prendere qui. La media del pollo è sempre facile da farla, però insomma in questo caso è un bel dato invece di partecipazione. Piccola pausa. Musica e poi torniamo ancora qui con l'assessore perché sono tanti temi che vogliamo affrontare. Scriveteci anche se avete qualche domanda per l'assessore. È qua. Risponde a tutto. È praticamente... Sa rispondere a tutto, quindi non ha paura di rispondere ai vostri Whatsapp. Adesso Gali con Paprika. Robert Miles con Children. Anche questo è il 1995, come Scatman di prima e anche Robert Miles Children. Che hanno? Assessora, allora arrivano i Whatsapp per lei, anche se non è proprio sul suo ambito, però so che insomma riesce a dare risposta su tutto, l'ho detto io, quindi mi hanno preso in parola i nostri ascoltatori. Arrivano a Whatsapp da Marcello, al 3317853555, dice Assessore sono Marcello di Milano, avete detto in campagna elettorale di togliere il pavé in centro Milano in via Rubens e nelle vie inutili, ma ci sono ancora lì tutti quanti i pavé. Marcello da Milano. Cosa risponde l'assessore? Ma intanto saluto Marcello e lo ringrazio per averci scritto. Sì, in campagna elettorale è vero, il sindaco ha detto che lì dove è possibile noi avremmo tolto la pietra, diciamo, quindi confermo che questa è la nostra intenzione. Poi, diciamo, lo abbiamo detto, lo vogliamo fare, abbiamo iniziato a farlo, ovviamente come dire, sono operazioni molto costose e che soprattutto nelle vie centrali necessitano dell'autorizzazione della sovrintendenza, quindi non è un qualcosa di così immediato, invece in via Rubens ho sentito l'assessore alla mobilità che mi ha detto che era a conoscenza del fatto che il Massello recentemente in via Rubens si è alzato, quindi hanno fatto degli interventi manutentivi, faranno degli interventi di manutenzione, ma in questo momento non è in programmazione la rimozione della pietra lì. Ahia, Marcello, devi tenerti il pavé sotto casa. Devo essere sincera su questo, per il momento sì, non è in programmazione lì, però una cosa molto bella che mi stava raccontando, della quale non ero a conoscenza, è che stanno facendo degli interventi per togliere la pietra e rimetterla in aree pedonali nuove, meno decentrate, quindi in un qualche modo per riempiegarla. Ok, non buttare via tutto. E quindi in un tratto della nuova ciclovia vento stanno riempiegando parte della pietra che hanno rimosso. Così se volete provare l'ebrezza della Parigi Roubaix, anche a Milano, potete fare l'avento e usare come il pavé della Parigi Roubaix, bene, 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 bene. Insomma, il tuo assessorato, Gaia, è un assessorato che copre davvero tantissime, diciamo sempre tutta la vita dei cittadini, dalla nascita alla morte, tu sei lì che ci segui. Ormai sono quanti anni che sei assessore? A ottobre 3. A tre anni. Saranno tre anni. Quasi a metà del cammino, più o meno abbiamo superato da poco la metà del cammino. Ogni volta che passano l'assessore di qua chiedo un po' il bilancio, non tanto economico del proprio assessorato, ma più che altro di lavoro e umano anche. Sì, allora, io sono molto contenta, devo dire, intanto delle deleghe che ho avuto, perché sono deleghe, diciamo, magari meno conosciute dai cittadini, ma che restituiscono molto in termini di valore umano, proprio per questo rapporto che si crea con il singolo cittadino. Il bilancio credo che sia positivo, perché io non sono una figura tecnica, nasco proprio diciamo come amministratrice locale più politica e le deleghe che ho ricevuto erano deleghe molto molto tecniche, quindi non era scontato riuscire a, come dire, trovare una quadra tra me, la direzione, le persone che ci lavorano. Credo che stiamo facendo in questi anni tante cose che invece stanno riuscendo a restituire una dimensione un po' più politica a queste deleghe, che forse in passato non l'avevano avuta e quindi penso, per esempio, all'introduzione dei funerali laici, penso, per esempio, alla cura e all'attenzione che abbiamo riservato alla battaglia del riconoscimento dei figli delle coppie omogenitoriali, penso alle iniziative di attenzione ai neo 18 anni, abbiamo fatto delle direttive a un tavolo con i direttori delle carceri milanesi e degli istituti di pena per agevolare l'ottenimento dei documenti da parte dei detenuti, quindi stiamo cercando in qualche modo di portare quell'attenzione sulla persona, che ci sta molto a cuore, all'interno dei servizi e quindi di portare un approccio un po' più orientato alla persona. Che cosa vuol dire? Che un servizio non è mai perfetto di per sé, il cambio di residenza online può essere veloce e rapido per una persona che magari non ha un gap digitale, mentre invece può essere un po' più complicato, non necessariamente per una persona anziana, ma per una persona che magari è a meno dimestichezza. Quindi noi abbiamo cercato di ribaltare un po' la prospettiva, un servizio non è mai perfetto di per sé, un servizio deve funzionare in maniera diversa a seconda della persona che lo richiede e quindi fare questo significa avere un'attenzione ai più fragili e significa cercare quindi di fare delle attività sul territorio come abbiamo fatto, per esempio penso a BC Speed nei municipi, penso a tante iniziative che abbiamo portato avanti proprio in quest'ottica, cioè di mettere al centro le persone che magari avevano meno conoscenza della lingua italiana o che appunto persone detenute o persone meno digitalizzate. È ovviamente un lavoro che è sempre perfettibile, però mi sta restituendo tanto. Io che in municipio ho avuto un'esperienza più sulle politiche sociali, quindi direttamente a contatto con. Approcciare in questo modo una delega tecnica è molto bello perché c'è tanta prateria, non so come dire. Tu hai, diciamo, declinato politicamente una delega tecnica, un'altra delega che hai invece è quella del decentramento, che lì in realtà nasce un po' più come quasi politica, un po' più politica. Tu riesci a essere un po' più tecnica a quel caso, è vero. Sei intervenuta invece nel cercare di rendere più snella o meglio più veloce la comunicazione soprattutto tra ancora molto molto difficile, tra i municipi e il comune centrale. Sì, allora lì è proprio una questione più gestionale. Mi spiego, noi non siamo una città come Roma, per certi versi per fortuna. Milano, pensate che Roma è dieci volte Milano, il municipio 9 è grande come la città di Milano, quindi parliamo di una cosa immensa. Municipio 9 di Roma. Municipio 9 di Roma, scusate, sì. Il municipio 9 di Milano è più grosso di Brescia, però. Ecco, quindi anche, esatto, qualcuno si è grande. Sei sempre il comune, sei sempre il comune di qualcun altro. Ecco, e quindi diciamo che da quel punto di vista noi abbiamo cercato di mantenere un'orizzontalità maggiore, cioè non cercare di avere nove repubbliche separate, ma di avere un comune di Milano di cui ogni municipio si sentisse davvero parte e di rafforzare le funzioni cosiddette di indirizzo, cioè il municipio è la realtà istituzionale che per costituzione, da realtà istituzionale decentrata, nasce per accorciare le distanze. Quindi abbiamo lavorato tanto, sì, è vero, sui processi e sulle procedure per riuscire a far sì che quello che il municipio ci segnala o quello che il municipio delibera in qualche modo possa davvero essere preso in carico dall'amministrazione. Che cosa voglio dire? Che prima non lo prendeva in carico? No, ma che se tu non strutturi bene il processo posso arrivare a chiederti un parere quando ormai comunque il processo in qualche modo è andato. Quindi cambiare questo tipo di mentalità e capire che quando io chiedo al municipio un contributo non è una perdita di tempo ma è un investimento per migliorare il processo più a misura di quartiere, più a misura di persona, ecco questo è un qualcosa che richiede mettere mano a tutto, a tutti i singoli aspetti dell'amministrazione. Ma questo ci tengo a dire lo abbiamo un po' deciso assieme. Cioè io all'inizio del mandato la prima cosa che ho fatto è incontrare tutti i presidenti e dire che cosa vogliamo fare. La Sessione Romagna è sempre on tour, cioè c'è poco da fare. Altro che Vasco Rossi che si spiega a San Siro per sette date, quindi vai in tour, ma va, fai sempre quello, abiti lì. Invece no, tutti i municipi, tutte le scuole, tutte le anagrafi, tutti i cimiteri. Tutti devi fare ogni volta. Questa settimana facciamo tutti che cosa? Mense, via, cimiteri, via. Anche quelle. No, mi piace molto. Beh, io credo che sia molto parte del nostro lavoro conoscere e toccare con mano. Quindi è vero, a me piace molto andare... Ma che mi diciamo? Il tuo ufficio dov'è? Il mio ufficio è in Via Larga, al secondo piano di Via Larga. Se tu rimani in Via Larga, cosa ne sai di quello che succede a Grattosoglio o a Muggiano? Non puoi, ma fisicamente è impossibile, credo, no? Assolutamente. Però tu sei una delle poche che ha quell'umiltà di dirlo, nel senso di prendere motorino, bicicletta, auto blu, quello che volete, ma comunque uscire almeno ad andarsene in giro. Sì, e Milano, guarda, io mi muovo tanto con i mezzi, mi muovevo tanto con il motorino fino a poco tempo fa, ogni tanto uso anche la macchina che noi abbiamo a disposizione come assessori. È blu? È blu? No, non è blu, è bianca. Ecco, tra l'altro Milano è incredibile perché tu hai citato Grattosoglio. Chi conosce Grattosoglio conosce le torri bianche di Grattosoglio. Ecco, se tu vai a 200 metri più in là delle torri bianche di Grattosoglio, c'è Via Saponaro, che è tutto un altro mondo, perché comunque alla base delle torri bianche hai la casa delle associazioni, cioè c'è una sorta di, come dire, centro. Invece se tu vai in Via Saponaro, che è poco più avanti, ti ritrovi in questa via lunga in cui davvero non c'è niente. Adesso abbiamo aperto un nuovo centro giovanile che è Baroni 85, che però ecco, anche lì devi andare perché dentro ci sono Action Aid, ci sono tante realtà, ma ti rendi conto che non è assolutamente facile e scontato che da questa via, che non è stata abituata ad avere luoghi di aggregazione, il passaggio per cui hai un nuovo riferimento in quartiere non è immediato. E quindi devo dirti che girare è veramente utile perché nella nostra città 200 metri possono fare davvero la differenza. E fa la differenza anche la musica qui con noi, rimani per i saluti finali. Stiamo andando quasi a chi includere, ma prima ci ascoltiamo Anna-Lisa con Sinceramente, poi teniamo qui con l'assessora Gai Romani per chiudere, per fare un po' anche i saluti finali insieme all'assessora. E adesso Anna-Lisa, Sinceramente, questa è Good Morning Milano, Cristal Radio 96.2 FM, da Plus in tutta la Lombardia. Sinceramente, Anna-Lisa, 8 e 50, qui quasi pronti a salutarci. Salutiamo l'assessora che ha un appello e un saluto per tutta la città. Ma così, non ti avevo avvisato, ma so che eri pronta. Sì, ero pronta, infatti. Allora, visto che in questa pausa, con questo bel sottofondo di Anna-Lisa, noi ci stavamo un po' raccontando la storia di Good Morning Milano e del posto in cui ci troviamo oggi, io ringrazio tutte le persone che ascoltano questo programma perché credo che probabilmente hanno a cuore la nostra città, perché è un programma che, a differenza di tanti altri, va sempre nel profondo delle questioni del nostro territorio e della nostra città. Quindi, se voi siete degli ascoltatori, evidentemente avete a cuore la nostra città. Per cui il mio invito per voi è intanto di iscriverci, di creare sempre di più un contatto diretto, perché noi istituzioni siamo qui, siamo umani, non siamo lontane, e anche magari mi piacerebbe scambiarci delle opinioni su che cosa vi ha mosso, diciamo, questo amore, questo interesse per la nostra città da ascoltare un programma che altrettanto l'ha così a cuore. Visto che io ho la partecipazione e il senso civico anche tra le mie deleghe, ecco, credo che gli ascoltatori di Good Morning Milano sicuramente potrebbero aiutarci tanto nel capire come dalla loro passione possiamo un po', come dire, coinvolgerne anche altri. Quindi, ragazzi, non fatemi fare butte figure adesso. Vi ha fatto l'appello, quindi mi raccomando, niente butte figure. Non facciamoci riconoscere come al solito, lo dico subito a Nello, che so che è essere in ascolto in questo momento con le sue battute. Oggi ci ha risparmiato, quindi grazie mille. Sì, abbiamo degli aficionados che io baratterrei tranquillamente con altri di altri programmi, ma devo tenere questi, quindi mi raccomando, non facciamo brutte figure. Assessora, grazie mille davvero di essere andato con noi oggi. Grazie a voi, come sempre. Quando sindaco sala gli sfischieranno le orecchie tutti i giorni perché ho sempre, tutti i giorni, qualcosa da riproverargli, quindi sarà felicissimo di questo. Però poi, quando le cose invece funzionano, quando le cose si possono fare anche nella migliore delle maniere, o almeno a volte, dico anche solo, provare a fare le cose bene. Poi a volte vengono, a volte non vengono, ma insomma, appunto, siamo esseri umani. Assolutamente. E soprattutto noi siamo affezionati ai nostri milanesi e che non si accontentano mai. E di questo noi siamo grati, nel senso che vuol dire che sono abituati al fatto che noi lavoriamo bene e vogliono sempre di più da noi. E anche questo è giusto. È giusto, sacco santo. E grazie, appunto, per tutto il lavoro che fate. Un saluto a tutto il nostro ufficio. Trapperti l'ho conosciuto, sono simpaticissimi. Grazie. Sì, l'ho conosciuto. C'è quella signora che c'è fuori. Quando vai a fare le partecipazioni, le pubblicazioni, che è di una gentilezza, una simpatia, che tu dici, ma vedi che allora si può fare. Sì, sì, assolutamente. Quindi saluta veramente. Sì, sì, a tutto il personale dell'anagrafe dei servizi civici. Poi, magari anche degli altri. Non ho ancora avuto un modo di provare gli altri uffici. Per adesso ho fatto quello dell'anagrafe. Poi magari un giorno faccio il giro. Faccio anche io, faccio il giro di tutti gli uffici per andare a vedere. Ti accompagno, andiamo insieme. L'anno prossimo, quando lo faccio a settembre. Ottimo, ottimo. Facciamo un tour, un tour in comune. Grazie mille, assessora. Grazie Fabio, grazie a te. Grazie a te. Grazie ancora. Adesso andiamo con un po' di musica e poi qui torniamo per i saluti finali. 8 e 55 minuti. Martedì 18 giugno. Siamo arrivati alla fine di questa puntata. Odierna, scusate, di Good Morning Milano. No, l'ultima parte di trasmissione la sto facendo con un raspino in gola che mi sta grattando tutto via e faccio fatica a parlare. Per fortuna, devo dire che siamo arrivati alla fine di questa puntata. Dopo di noi, Ambrogio Curti con Senti Questa. Lui, il raspino non ce l'ha mai. Lui, la sua voce, la fa sempre scoperta. a coppiettare nelle notizie, nelle canzoni che vi racconta e lo fa tutti i giorni. Dopo di noi alle 9.05 con Senti Questa. E dalla falsa modestia di un Fabio Ranfi qui presente, vi do appuntamento appunto a domani. Vi ricordo che noi siamo qua sempre tutti i giorni dalle 7 alle 9 con Good Morning Milano. Siamo qui fino al 28 giugno. Fino al 28 giugno siamo qui. Poi andiamo in vacanza anche noi ma poi tranquilli che il 9 settembre siamo di nuovo qua alle 7 puntuali per raccontarvi tutto quello che sarà l'autunno, poi a quel punto rientro dalle vacanze. L'autunno, insomma, siamo qua sempre per raccontarvi Milano, la città metropolitana e tutto quello che fa grande. Milano. Appuntamento a domani, mattina alle 7, in diretta dalla strada. E sì, domani mattina siamo in esterna. Siamo davanti al Carlo Porta per la maturità. A domani. Ciao a tutti!